buongiorno a tutti bentornati a casa di jo oggi mi trovo nella campagna toscana siamo sempre nella bellissima val delza mi trovo qui in un bellissimo campo di ulivi come potete notare e guardate un po che cosa si trova disperso all'interno di un'uliveta una graziosissima cappellina questa cappellina si chiama di santa maria monti ed è costruita probabilmente sulle macerie di una ex parrocchia una parrocchia che esisteva in tempo un'epoca medievale e che poi andò distrutta perché si unì questa parrocchia quella di san martino maiano era un tempo la parrocchia qui della borgata contadina e di questi terreni sulle macerie appunto di questa parrocchia come vedete infatti si trova in un cucuzzolo rialzato che probabilmente custodisce proprio le macerie della vecchia chiesa fu costruita questa cappellina in ricordo proprio di questo luogo sacro diciamo una cappellina che probabilmente aveva anche il suo piccolo uso è come la vediamo semplicissima la struttura a capanna un grande occhio la vediamo anche all'interno un tempo probabilmente era molto carina forse anche usata il tetto era stato ristrutturato come vedete piuttosto sano c'era un altare probabilmente c'erano anche delle figure degli affreschi un quadro qualcosa vediamo qui una piccola nicchia dove forse c'erano degli sportellini e c'erano gli oggetti usati durante piccole funzioni religiose una piccola messa un luogo davvero suggestivo un luogo davvero suggestivo nel cuore della campagna nel silenzio nella pace qui siamo nella val delza in lontananza possiamo vedere anche montespertoli questa bellissima uliveta e voglio farvi vedere anche il retro perché sarebbe interessante anche quello passeggiando vediamo se riusciamo andarci posteriormente per farvi vedere il campanile oddio scusate ogni tanto in questi campi che vi faccio vedere bellissimi si inciampa ecco e vorrei farvi vedere il retro dove vediamo un piccolo campanile a vela che conteneva una singola campana è una campana molto piccola che faceva un piccolo suono mononota così per richiamare i fedeli per qualche funzione un luogo fantastico come vedete una bellissima di vita la nostra meravigliosa campagna toscana siamo nella val delza un luogo fantastico molto ricercato anche dai turisti fra l'altro in periodo estivo dove un luogo bellissimo dove passare le vacanze in mezzo alla natura facendo sport andando in bicicletta correndo a piedi vicino alla città di firenze quindi facilmente raggiungibile anche per chi volesse poi visitare la città di firenze da questo luogo meraviglioso che così porto sul canale oggi per voi tutti tutti voi amici del canale che dedico alberto che mi ha fatto conoscere queste meravigliose zone saluto tutti ciao a tutti dalla val d'elza ciao a tutti dalla vecchia jo